Credo che sia l'unica regione in tutta Italia che su dieci capoluoghi di provincia governiamo in tutte e dieci, per cui penso che si possa essere soddisfatti. Quindi Livorno è già presa? Livorno dopo è scontato, sì che è già presa. Sono tranquillissimo. Nessun apparentamento? Senza apparentamento. Avete fatto un'analisi di questo ballottaggio, forse l'elettorato era un po' stanco, ha percepito come vecchio il candidato Ruggeri? No, Marco è un candidato brillante, giovane, si è misurato per quattro anni qui, in questi locali come capogruppo. Molto probabilmente il fatto che siamo andati alle primarie in tempi proprio off-limits ha pregiudicato un pochino il primo turno, ma sicuramente in questi 15 giorni farà valere a un candidato non solo nuovo ma super capace.